E quindi Ghiblet è finalmente nostro alleato? Si può dire? Ho un messaggio per te da Ghiblet Guerrino Nameciano di classe S, per favore Nail, dimi che stai bene! No! Gohan! Cabba, buona fortuna. Cosa buona fortuna? No! No, Nail! No! No, ti prego, no! Una lieta buonasera a tutti quanti. Benvenuti nel successivo episodio di Charlotte and Friends. La storia di Dragon Ball Legends oggi continuerà verso quello che ci aspettiamo tutti quanti, ovvero il Super Saiyajin Buru, che speriamo possa arrivare sui nostri schermi a partire da questo Natale. Vorrei dunque dire che possiamo partire 3, 2, 1. Let's go! Dove eravamo rimasti l'altra volta? L'altra volta eravamo rimasti all'arrivo di It, che si scopre essere stato ingaggiato da Goku. È arrivato, ci ha salvato le chiappone e ci ha consentito di rifocillarci di cibo. Forse oggi sapremo qualcosa di più, non so che cosa aspettarmi, ma ovviamente questo è ciò che stiamo per scoprire. e abbiamo come parte 11 un semplice Charlotte, forma base, con un cabba alle spalle. Charlotte sembra un po', un po' sturdito. Si vede che ha appena dormito, immagino. Oh! Cosa succede? Stanza dello spirito e del tempo. Vedo lì dietro. Vedo il palazzo di Dio. Eh, ok. Charlotte riesci a senti... Uh, allenamento nella stanza del spirito e del tempo, magari, chi lo sa. Charlotte riesci a sentirmi? Oh, grazie a Dio. Mi stavo iniziando a preoccupare che non ti saresti mai più svegliato. Eh, ok. Goku mi risponde. Beh, non mi sarei sorpreso. Dopotutto ha appena combattuto con Zamasu e Black. Bulma, Giacomo, Goku, Gohan, sei qui anche tu? Dove ci troviamo? Beh, siamo al palazzo di Dio. Palazzo di Kami. Kami? Beh, sì, il suo vero nome è Dende ed è il guardiano, il supremo della terra. Ma, sfortunatamente, beh, è andato a nascondersi da qualche parte. Fuori campo, se qualcosa gli accadesse, beh, potremmo dimenticarci per sempre di utilizzare le sfere del draco. Questo è piccolo, 100%. Quella voce... Eeeh! Ma invece no! Non era piccolo, era Whis. Come se a Whis interessasse l'uso delle sfere del drago. Avete qualcosa di molto più potente all'interno delle galassie, vabbè. Quindi non c'entra niente la stanza dell'espirito del tempo. C'entra che, probabilmente, decidono di usare il palazzo di Dende come stanza per le operazioni. Va bene, d'accordo. Abbiamo una base. Lord Beerus, Whis, siete vivi? Eh beh, ragazzi, credete davvero che Zaha sia riuscito a fare anche solo un graffio virus? Voglio sapere come si sono salvati. Sicuratevi se un attacco di menticatto avrebbe quanto me non riuscito a graffiare. Non è successo niente. Io sono un dio della distruzione. Su via. Che cosa è successo su tutti gli altri? Ah, ragazzi, Ghiblet. Ghiblet? Che fine ha fatto? Eh, appunto. Ah, giusto. Kabba, Gohan, Trunks. Non c'è bisogno di preoccuparsi. Non sono qui con noi, ma sono tutti vivi e vegeti. Anche Ghiblet. E quindi Ghiblet è finalmente nostro alleato? Si può dire? Puoi uscire adesso nel gioco Toshi? Adesso Ghiblet è nostro alleato. Puoi fare... Puoi rilasciarlo come sparking giocabile. Puoi farlo adesso, giuro. Non serve che lo fai Darkness. Adesso non è più Dark Key. È diventato una sparking normale, ragazzi. O una Iron normale, non lo so. Può rilasciarlo. Toshi rilascia Ghiblet. Petizione, ragazzi. Commento. Scrivete tutti quanti rilascia Ghiblet con l'hashtag sotto al video. Davvero? Sì, prima che la lambda ghiacciata venisse completamente polverizzata, Whis si è frapposto tra l'attacco nemico e noi e ci ha protetto tutti quanti. Andremo da Kabba e gli altri più tardi, ma per adesso ho un messaggio per te da Ghiblet. un messaggio da Ghiblet per me. Farò ciò che devo fare. Anche tu. Mettici tutto te stesso e fai ciò che devi fare. Farò ciò che devo fare. Cosa deve fare? Questo è ciò che mi ha detto. Cosa vuol dire, ragazzi, questo? Qualche idea? Ha davvero giusto ciò? Sì, è anche detto che non c'è bisogno di dirti di dare tutto quanto te stesso. Direi che dopo quel combattimento effettivamente anche Ghiblet ha capito il risolto di Charlotte. Te lo sto chiedendo solamente per stare dalla batte dei bottoni, ma sai che cosa devi fare, giusto? Sì, puoi giurarci, dice Charlotte. Fermerò Zaha e ti pare una buona risposta? Dio dell'istruzione. Sì, esattamente, è sufficiente. D'accordo, quindi sei pronto per la tua prossima missione. Prossima missione? Prima combattiamo, eh? Combattiamo? Ah, devo verificare prima il tuo ki. Quindi Beerus vuole verificare i progredzi di Charlotte e infatti si vede che lo farà combattere con qualcuno. Quindi chi combatterà combatterà contro Gohan. Va bene, ci sta. Gohan Supremo contro Charlotte, ci sta, va bene. Quindi avremo un Charlotte God versus il nostro Gohan. Nichols, grazie mille per la sub. Buonasera, ottavo mese. Bentornato, bello. Un bacione. Ero curioso del tuo potere. Il potere che differisce abbastanza dal Super Saiyan e dal Super Saiyan God. Effettivamente Gohan ha una trasformazione che Charlotte non ha mai visto perché ovviamente lo sblocco della, diciamo, potenziale interiore è differente, no? Dalle forme che conosciamo. Che lui conosce, effettivamente. E ok, va bene. Qui abbiamo quindi Gohan contro Charlotte. Va bene. Non c'è bisogno di dirlo a Gohan ma non dimenticarti che questo non è un vero combattimento Charlotte. Quindi non picchiatevi fino alla morte. È allenamento. Ok, ci alleniamo con Gohan. Ok, finisce il combattimento con Charlotte e Gohan. Effettivamente Virus e Goku hanno guardato. Goku dice Charlotte diventa ogni volta più forte ogni volta che togli gli occhi di dosso Charlotte diventa più forte quindi Charlotte è veloce a imparare, no? Migliora molto rapidamente. Ok, dopo questo combattimento anche Gohan si rende conto che effettivamente Charlotte è diventato un guerriero con i fiocchi. Arriva il momento del verdetto e Goku chiede a Lord Beerus ma Lord Beerus come ti è sembrato Charlotte? Sei riuscito a capirci qualcosa? Si vede che vogliono fare delle analisi su effettivamente per quale motivo Charlotte è speciale. Dopotutto è stato scelto come contenitore del cristallo quindi Goh Beerus risponde di sì. Guardandolo combattere sono stato in grado di confermare il mio sospetto. Senza dubbio riesco a sentire qualcosa in Charlotte presente all'interno del cristallo dell'omnificenza. Quindi c'è qualcosa dentro Charlotte che è presente anche dentro al cristallo. Attenzione attenzione questo è importante. Suppongo che vedere il cristallo completato con il ki di Charlotte e di Giblet effettivamente non fosse una cosa casuale quindi ha confermato i suoi dubbi. Quindi non solo Charlotte e Giblet erano la chiave per la costruzione del cristallo ma effettivamente dentro di loro sembra esserci una parte del cristallo stesso cosa abbastanza particolare. Ehi Charlotte sei stato attaccato da un altro dei piripidi di Zaha giusto? Oltre a Black e Zamasu sì Rildo ridicolo sì bla 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 qui va bene Charlotte sta venendo targettato anche dopo che il cristallo è stato completato sì effettivamente perché da quello che diceva Black sembra che Zaha sia ancora interessato a Charlotte sebbene il suo scopo sia effettivamente terminato cioè a Zaha servivano Charlotte e Giblet per sbloccare il potere del cristallo a questo punto però il potere del cristallo è già stato bello che è attivato e quindi a cosa gli serve ancora girare attorno a Charlotte perché sta ancora mandando dei sottoposti per cercare di fare qualcosa che non sappiamo e Beerus risponde mi mancano delle informazioni abbiamo bisogno di più informazioni dobbiamo capire per quale motivo questa cosa sta effettivamente avvenendo e qui vabbè Charlotte non sa che cosa rispondere e molto importante qui Beerus risponde Whis lo guarda e Whis risponde capito prima di informare Charlotte sulla sua prossima missione cerchiamo di fare un piccolo recap di ciò che conosciamo sembra che praticamente tutti quanti abbiano già incontrato Lord Champa vi ha detto qualcosa in merito al cristallo dell'omnificenza e Bulma risponde sì effettivamente è un qualcosa che potrebbe essere assimilabile a un prodotto fallito delle Super Dragon Ball giusto e Whis risponde precisamente queste sono informazioni che già sappiamo sappiamo che il cristallo dell'omnificenza è un cristallo che è un po' un sottoprodotto di scarto delle sfere del drago super sfere del drago quindi è una specie di prototipo di Super Dragon Ball qui Whis ci conferma che il cristallo è simile al Super Dragon Ball e possiede il potere di garantire dei desideri e fondamentalmente però ci dice anche che comunque si tratta di un oggetto differente e si crede che sia superiore se però superiore ma non con tutte le certezze nell'uso che le Super Dragon Ball ci danno un prototipo di Super Sferi del Drago instabile ma potenzialmente superiore quindi si fai qualche cavolata BOOM chissà cosa succede magari fanno dei casini molto molto grandi con questo cristallo Whis continua il discorso e dice che cosa lo rende superiore è legato al suo periodo di ibernazione cioè il cristallo dell'omnificenza può essere praticamente usato pare quanto gli pare e quindi non ha cooldown delle Super Sferi del Drago un pochino come le Sferi del Drago non le usate e poi si sparpagliano pare che questo cristallo possa essere utilizzato quanto ti pare quindi tecnicamente può garantirti dei desideri illimitati questo è un pochino il problema di questo cristallo e io immagino che chiedere troppi desideri però potrebbe creare dei problemi e soprattutto da dove prende l'energia condite anche Winchup nell'anda del ghiaccio Zaha ha utilizzato il cristallo per nullificare l'attacco di Lord Beerus e anche per nullificare l'attacco di Goku fondamentalmente Boom ma vabbè qui dice oh mio dio puoi davvero ottenere desideri illimitati ma non ci dovrebbe essere qualche legge universale contro questo cristallo quella non è l'unica capacità del cristallo fai fammi spiegare un attimo quali sono tutti i suoi effetti dice Whis c'è sicuramente un prezzo da pagare per ogni desiderio espresso dice Whis se ciò non fosse il caso credo che sarebbe abbastanza certo che l'universo 7 sarebbe già praticamente stato spazzato via giusto effettivamente Whis dice sì ma se puoi esaudire desideri infiniti allora adesso non saremo neanche qua a parlare perché l'avrebbero già espresso il desiderio di far sparire tutto probabilmente probabilmente esatto Bulma dice sì effettivamente hai ragione e Bulma aspetta dice aspetta l'intera ragione per la creazione del cristallo era Whis risponde sì ha creato il cristallo con il singolo obiettivo di distruggere l'universo questa cosa ragazzi la sappiamo già e ci era già detto che il cristallo sarebbe servito a Zaha per obliterare tutto e quindi Whis puntualizza sì Zaha però ora il cristallo ce l'ha ma noi siamo ancora qui quindi non ha potuto utilizzarlo per quale motivo e Bulma risponde sì quindi in altre parole Zaha non ha ancora tutto ciò che gli serve per raggiungere i suoi obiettivi ah quindi in altre parole aggiunge Jaco possiamo semplicemente aspettare possiamo riposarci sapendo che Zaha non riuscirà a distruggere l'universo da qui a un momento all'altro vero? ma esattamente qual è il prezzo che si ha nell'utilizzo del cristallo? e Whis risponde credo di avere la risposta a questa domanda ma ma prima di continuare il discorso Charlotte ti piacerebbe fare qualche combattimento con me un paio di round con Whis ragazzi attenzione Charlotte viene sfidato da Whis abbiamo avuto un onore un onore per noi beh questa conversazione sta diventando troppo complicata e mi sento un pochino preso fuori dice Charlotte un po' pazzurdo combattere con Charlotte potremmo darvi qualche informazione in più sul prezzo che il cristallo richiede ah si e cosa c'entra Charlotte con il prezzo del cristallo ok fondamentalmente quindi Whis vuole un match questo è quello che capisce Charlotte d'accordo allora Charlotte va subito in forma di Super Saiyan God e parte la sparring di Charlotte versus Whis il match di sparring di Charlotte contro Whis è appena terminato ovviamente Charlotte le ha buscate come se non ci fossero domani non può fare nulla contro un angelo perde la sua trasformazione o meglio la cancella e Whis gli fa i complimenti ragazzi gli dice ah però Charlotte vedo che sei abbastanza migliorato e hai imparato appieno come controllare il tuo intero potere questo ci conferma nuovamente che Charlotte è completamente padrone della sua God Form manca solamente uno step per raggiungere la magnificenza in realtà ne mancano due o tre però tranquilli per quello c'è due o tre anni di Dragon Ball Legends e Whis ma che cosa sta succedendo se continui ad evitare i miei attacchi e non mi colpisci beh questa partita terminerà mai oh le mie scuse ma se io mi facessi colpire o ti colpissi staremmo aiutando indirettamente Zaha ah si continuando da dove ci eravamo fermati questo potrebbe esattamente essere il prezzo per utilizzare il cristallo di rumificenza lo sto capendo ragazzi credo che il cristallo di rumificenza ha bisogno di energia specificamente l'energia generata dal combattimento simile a quello di Majin Buu Whis dice per adesso solamente un'ipotesi tuttavia se ho ragione siamo davvero in pericolo in questo momento il cristallo il cristallo è completato ma l'universo 7 non è ancora stato distrutto e il torneo del potere del tempo ancora in corso stai capendo ciò di cui sto parlando non c'è ancora energia quindi il desiderio non può essere ancora esaudito e gioco ci arriva ci siamo arrivati anche noi finalmente ogni volta che i partecipanti combattono generano più energia cioè il cristallo è praticamente il catalizzatore dell'energia che viene generata dal combattimento di tutti i combattenti del torneo del tempo immaginatevi l'energia da dove viene esattamente da tutti i combattenti del torneo ah ho capito quindi Beerus aggiunge il suo desiderio verrà esaudito e questo universo verrà cancellato dall'esistenza sospetto che lasciarci Vivi facessi appunto parte del suo piano per questo che non li ha effettivamente uscisi ma se ne sarà andato perché vuole che combattano per raccogliere energia per poi obliterare tutto gli interessa la vita di qualche dio della distruzione o di Goku o degli altri e lui interessa obliterare tutto quindi vuole che tutti quanti combattano infatti dopo tutto lui vuole che noi contraattacchiamo più resistiamo e più energia lui potrà raccogliere per esaudire il suo desiderio di annientamento ah però ragazzi e qui ovviamente Giacomo puntualizza una cosa in maniera intelligente dice ok e se non possiamo combatterlo come diavolo lo fermiamo e Beerus risponde oh sì noi combatteremo oh sì che combatteremo ma le cose sono andate avanti per troppo tempo davvero siamo stati nelle mani di Zaha cioè ha fatto uso di noi come voleva e quindi la nostra battaglia sarà breve e decisiva inizieremo a raccogliere le nostre forze in questo momento e attaccheremo istantaneamente il luogo dove Zaha si sta nascondendo ah penso di aver capito beh mi sono perso un pochino qua e là però beh insomma dovremmo sconfiggere da tutti insieme giusto Charlotte non capisce esattamente ed ecco perché tu dovrai essere pronto Charlotte Bulma Giacomo ascoltate ecco la vostra missione siete fatti un po' di alleati in questa era giusto una quantità allucinante sì sì ci siamo fatti un sacco di alleati bene va e reclutane il più possibile quindi la nostra missione è quella di reclutare alleati e io che volevo combattere qualcuno non sei cambiato di una virgola eh questa potrà non essere la missione più eccitante del mondo ma mostra un po' di entusiasmo su via Kaba e il piccolo Gohan e Trunks hanno già lasciato il luogo dello scontro e stanno già cercando eventualmente degli alleati per favore va a raggiungerli ok va bene quindi beh sembra che mi farò un bel viaggetto in giro per il mondo dice Charlotte quindi Goku andrà in giro a cercare Zaha mi sa che non avrà nel protettore non avrà nel bodyguard ragazzi Bulma e Giacomo non avrà nel bodyguard Goku andrà in giro a cercare il la posizione di Zaha da quello capito per dirti la verità Zaha adesso sarebbe come cercare un ago in un pagliaio non abbiamo la benché minima idea di dove iniziare a cercarlo però dopo tutto quello che sappiamo sappiamo che potrebbe essere scappato addirittura in un regno creato appositamente da lui cioè potrebbe essersi creato una zona in cui addirittura non ci si può arrivare ha un cristallo che gli garantisce desideri infiniti effettivamente oddio un reame differente che cosa c'è Bulma credo che di sapere dove Zaha potrebbe trovarsi oh sì Frieza è sparito all'interno di un buco misterioso ah sì la spaccatura dimensionale vero quando c'era Magine Vegeta esattamente scommetto che quel buco è un portale che ci porterà all'interno di un differente luogo e potrebbe essere un luogo effettivamente fatto da Zaha e lui potrebbe semplicemente essere al suo interno ah però brava questa cosa potrebbe girare a nostro favore con questa informazione saremo in grado di migliorare la nostra ricerca di focalizzarci meglio nella nostra ricerca d'accordo lasciateci cercare Zaha e poi dopo voi andate a fare le vostre cose voi tre Goku e Gohan sono due chi è il terzo? It tac sapevo io quindi fondamentalmente Goku, Gohan e It si occuperanno di questa cosa dopo avermi consultato con il mio prezzetto cliente sono qui per offrirmi come servizi fare i miei servizi ho immaginato che cercare e trovare Zaha non sarebbe stato un task semplice quindi beh ho acquistato un It un It che ci aiuterà nella ricerca un po' di gratitudine ogni tanto Beerus arriva Lord Champa che effettivamente gli ha prestato gli ha prestato It ovviamente due minuti senza essere al centro dell'attenzione ce la fai ad averli Lord Champa che cosa succede Beerus ricordati io ti posso riprendere It quando voglio guardate come lo ha in pugno Beerus allora va bene che It è un combattente importante però non è che tu sia messo malissimo nel universo di Goku and Company ci sono una quantità di combattenti ma anche leggermente ad esempio un Vegeta io insomma lo avrei lo avrei pescato vabbè cavolo allora non era Goku era Champa però nella preview mi avevano fatto capire tutt'altro ok ci siamo sbagliati quindi era Champa che stava dietro a It interessante abbiamo un altro dietro delle istruzioni come alleato qui la cosa si sta abbastanza espandendo ragazzi sono due delle istruzioni che sono involved abbiamo due angeli anche entrambi effettivamente credo che non vogliano che i loro universi vengano obliterati io una chiamatina al Daishinkan dicendo ma guardi c'è un problemino l'avrei fatta però forse io non non conto nulla per dare questi consigli d'accordo allora nulla fondamentalmente qui capisce Charlotte che era stato mandato da la Champa aaaah ecco perché non ci avevo capito una ceppa allora il primo ad assumere It è sto Ciampa e poi è stato Goku ho capito ok quindi dopo il casino che è successo all'anno dalle ghiaccio eravamo disperati non riuscivamo a trovarti e avevo altre cose di cui occuparmi quindi mi sono capitato a parlare con It e gli ho chiesto di proteggerti quindi fondamentalmente It lavora per chi lo paga di più anche se Goku in realtà non lo ha pagato ma ok c'è una voce fuori campo e mer oh una trasmissione emergenza no mai no vi prego non mi mettete in mezzo la no no per favore ascoltate che cosa succede che succede prima della chiamata di Mai a Charlotte e gli altri Kaba Gohan e Trunks sono andati a cercare alleati oh non c'è nessuno nemmeno qui che bella quella trasformazione di Gohan che bella l'ador beh nessuno riesce a sentire da chi quindi le cose sono abbastanza difficili in questo passo non saremmo mai in grado di trovare degli alleati non sappiamo neanche se c'è qualcuno vivo dopo quello che è successo Bardock le ragazze sono vivi e sono sicuro va bene tristemente non ho il tempo di finirti qui da solo ah beh qui è quando lo ha tra viricolette risparmiato e Kaba poverino non è riuscito a fare niente contro Giblet perché non era inferiore di più mi dispiace maestro sono stato in grado di trattenerlo solo per qualche minuto qui arriva Mai emergenza per favore ascoltate ah anche loro hanno ricevuto lo stesso messaggio quindi ritornate alla base immediatamente siamo sotto attacco ripeto siamo sotto attacco oh oh Nail e gli altri stanno resistendo ma è solamente una siamo in oh oh ok siamo nella timeline di Mai e qui è tutto distrutto di solito darei la colpa a Goku Black però la base è distrutta ma Nail e gli altri sono tutti oh oh Nail guerriero nomeciano di classe S per favore Nail dimi che stai bene Nail quelle quelle ferite guardate sono loro 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 oh oh attenzione ai 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 qualcuno cerca di combattere il nostro trio qualche blast da lontano ah 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 Goku quindi sei stato tu a distruggere la tua la base chi diavolo sei beh è sufficiente dirvi che sono un combattente del torneo che cosa divertente Gohan Trunks ci penso io a questo vabbè se ci pensi tu confidenza non ha nulla a che vedere con questo questo è semplicemente ciò che devo fare ai 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 Kaba Power attenzione sfida il Goku uno contro uno dobbiamo uscire però perché ho sbagliato a prendere ok combattimento Kaba versus Goku posso farcela sì è forte ma posso sconfiggerlo attenzione ora capisco come tu e i tuoi amici siete riusciti a sconfiggere e uccidere Lord Bojack hai appena detto Bojack chi sei sei curioso vero beh non c'è problema a dirtelo ma hai davvero tempo da perdere se fossi in te io sarei un pochino più preoccupato dei tuoi piccoli amici ah però quella voce Trunks sembra davvero che quel piccolo ratto stia già mangiando la polvere dannato ah è proprio scappato guardate Bido ho un masso di muscoli guardatelo grossissimo sconfitto tutti ovviamente Gohan è ancora in piedi Trunks sembra che tu sia il prossimo ragazzo sì vabbè Bido contro Gohan super saiyan cosa vuoi fare Noro My Watch addirittura arriva Kaba con il calcione sul collo che ferma Bido attenzione pagherai per quello che aveva fatto a Trunks sì questo è lo spirito dammi tutto ciò che puoi va bene ok lo faccio dice Kaba non vi dimenticate di me in questo momento uh due contro due in realtà basterebbe Gohan con lo sguardo per obliterare questi due poveri mentecatti però vabbè ci sta ci sta vabbè maledetti marmocchi ci stanno facendo danno problemi più di quello che mi aspettassi vabbè qui Kaba e Gohan fanno la coppia che scoppia sì il playtime is over ho 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 sembra che qualcuno sia diventato un po' troppo cocchi oh mio dio è arrivato il turbante è finita ragazzi Gohan e Kaba possono diventare sono carne da macello Bougie li ha appena bloccati eh sono fermi chi poteva cambiare le sorti di questo scontro se non il turbante è ovviamente il potere del turbante che cosa ti avvolò è questa roba ma se nel film Gohan fa tipo così e distrugge vabbè questo giochetto da ragazzi che cosa succede non riesco a muovermi non andrete da nessuna parte grazie alla nostra barriera potete semplicemente smettere di resistere il più resisterete e più energia questi fili risucchieranno dal vostro corpo che cosa stai dicendo? pensi davvero che questo ci fermerà? vi cancelleremo quello stupido ghigno dalla faccia e dai Gohan fagli vedere come si distruggono queste questi lacci dai Gohan è futile oh no il dark key eh adesso è diventato più duro il laccio oh oh ah ecco perché non si riusciva a liberare perché questo Bujin col turbante ha il potere del key oscuro quindi Gohan non è sufficiente ah lo sta picchiando ma che maledetto no Gohan è tempo di farti un pisolino dice Bido no cabba è rimasto no sei completamente inutile da solo la tua unica mossa speciale sarà chiamare aiuto no lo stanno psicologicamente distruggendo povero cabba no no ti stai sbagliando sono arrivato fin qui sperando di diventare più forte beh odio dire le cose in faccia ma sei debole come tutti qui ritira subito quello che hai detto ai 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 viene colpito cabba attenzione le parole della lama dello spadaccino arrivano sul corpo del Saiyan e lo feriscono nel cuore e nello spirito stai continuando a perdere potere eventualmente tra qualche istante morirai che cosa ci sarebbe divertente in tutto ciò ai 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 viene ancora colpito attenzione cabba poverino viene colpito da bido da gokua e da bujin mentre è legato e non può fare nulla inerme la gang lo sta maltrattando ha perso la formazione e cade a terra svenuto è davvero inutile mai cabba si rialza lei e gli altri sono vivi e se cabba si stesse si stava trattenendo per non ferire i suoi amici ditemi di si adesso gli fa un culo gigante cabba distrugge l'era clan da solo attenzione come back di cabba che cosa ah c'è ancora un po' di energia se vengo sconfitto qui tutti quanti gli altri saranno in pericolo il maestro è vivo ma non so dove sia e questa volta non ci sarà nessuno da aiutarmi è tutto quanto nelle mie mani e qui vabbè cabba si ricorda che ha sempre fatto aiuto dei suoi alleati e non ha effettivamente mai risolto le cose da solo questa volta ce la farò da solo oioioi attenzione viene comunque colpito è completamente inutile c'è tutto sto discorso e poi è tipo caduto a terra e deve sviluppare no si è rialzato pazzo cabba stai giù che sei mezzo no ho fallito no non essere triste avrai compagnia nell'altro mondo arriva una sfera di energia non mi dire che lo hanno salvato di nuovo perché sarebbe come aver perso cabba se arriva shallot giuro che rido il doppio una ritata abba sei ancora con me beh questa ragazzi è la rigenerazione nameciana arriva Nail a salvare la situazione dopo che cabba è stato completamente inutile Nail e la cosa divertente è che cabba tre secondi fa no non mi farò salvare negli altri questa cosa questa volta ce la farò si fa salvare da Nail meraviglioso dovresti essere morto eh no caro si chiama rigenerazione nameciana va bene no non farò Nail vattene da qui cabba buona fortuna cosa buona fortuna no no Nail no no ti prego no 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 ti prego non farlo no 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 è morto Nail oddio oddio no è morto Nail ragazzi e Goku e Goku lo sta sbeffeggiando no non così non ancora qualcuno mi ha salvato di nuovo oh l'hai finalmente capito adesso hai capito cosa significa essere deboli aia dare così la propria vita per regalare qualche minuto o due a questo gamberetto beh non ci sarà nessuno a salvarti adesso d'accordo aia attenzione ragazzi cabba super saian blu anteprima solo su dragon ball legends solo su dragon ball legends cabba super saian blu cabba super saian 3 cabba god chi 16 Nail vengo costantemente salvato eh si accorge che non può continuare ad essere salvato e fronteggiando i suoi avversari temibili avversari dell'era clan cabba parte l'host di sottofondo parte l'host con cabba signori questo è il momento della storia di cabba lo sto per dire lo sto dicendo cabba super saian 3 confermato attenzione signori attenzione è super saian normale beh è un super saian che combatte con il cuore ragazzi è un super saian angry un super saian diciamo un super saian 2 si può dire dai dai ci ha provato mi aspettavo la scena epica ma ok ragazzi toshi ci ha scammato cabba dovrebbe essere super saian 2 3 o qualcosa del genere però non gli hanno fatto il modello facciamo finta che ci sia un'esclusiva di cabba super saian 3 su dragon ball gli sono cresciuti i capelli ma non hanno voluto assumere un disegnatore per disegnarglieli quindi in questo momento abbiamo cabba super saian 3 contro bido gokua e bushin disegnerò io cabba super saian 3 in copertina per dar sfogo alla nostra immaginazione perché solo così questo fight potrebbe avere un minimo di senso se no non ce l'ha ve lo dico io ok ah cabba urla ma come sta facendo a tenere testa le ragazze non capisco ah il potere dello zinkai ragazzi da dove arriva tutto questo potere non sprecare il tuo fiato a scusarti non cambierà assolutamente nulla che cosa ehi gokua smettila si esatto dobbiamo metterlo all'angolo è una bestia in questo momento sta cercando disperatamente di salvarsi la pelle dobbiamo non può vincere contro di noi vi sbagliate vi sbagliate vi sbagliate dice io vincerò devo vincere non per me ma per tutti quanti io finalmente uscirò dall'ombra del mio maestro e combatterò con tutto ciò che possiedo ed eccolo qui signori ancora il super saiyan 3 falso di cabba contro tutti è finito così ragazzi il combattimento termina con cabba super saiyan 3 falso che è andato al parrucchiere contro bujin e gli altri vabbè guardiamoci la preview e qui ci sono virus e ciampa che dicono ma come no non fermatevi qui cabba è nei guai e ragazzo starà bene ma si certo sei sicuro che riusciremo a raccogliere gli alleati in tempo si beh non rompere le scatole cabba non è del tuo universo dopo tutto e cosa stai cercando di dire questo non ha niente a che vedere con me smettetela voi due c'è vi siete dimenticati che siete dei della distruzione se combatterete distruggerete l'intero universo distruggere l'universo che state cercando di salvare da zaha apprezzare l'ironia ma non fa ridere si d'accordo beh cabba non sembra che si stia decidendo di arrendere dopo tutto allora un inizio di trama molto interessante soprattutto nella prima parte dove abbiamo avuto davvero una quantità immensa di informazioni seconda parte con cabba falso super saiyan 3 con la chioma che ci siamo immaginati tutti quanti avere nella testa e fondamentalmente quella che sembra essere una saga incentrata su un po' cabba probabilmente ce lo porteremo avanti anche per il mese di ottobre nei prossimi episodi ma anche sulla ricerca di charlotte e i suoi nuovi alleati una volta trovati gli alleati molto probabilmente sotto il periodo natalizio inizierà l'attacco diretto su quello che sarà il quartier generale di zaha e quindi probabilmente in quel periodo sicuramente avremo una trasformazione in più per charlotte se non è lì ragazzi non capisco in quale momento sia più opportuno dropparla potrebbero dropparla come seconda parte della celebrazione invernale un po' come è successo con goku il traestinto e il successivo arrivo di gogetta e di broli nella seconda parte quindi magari prima parte anche dicembre un pochino per prepararci a una seconda parte con charlotte blu come vi dicevo è probabile che ci voglia ancora un po' di tempo però dopo tutto noi siamo qua per goderci la storia per raccogliere un po' di informazioni e cercare di apprezzare il lavoro che viene fatto dal team di sviluppo perché ogni tanto ci sanno fare parte